buongiorno sono veronica oggi vi presento la nuova gamma di allarme yale sync di smart living grazie al nuovo design degli accessori della centralina avrete un kit più funzionale e con un design moderno che vi garantisce una totale tranquillità della vostra casa le caratteristiche principali di questo kit sono la possibilità di essere tranquilli e sicuri anche quando si è fuori casa la geolocalizzazione quindi l'app ti suggerisce di inserire l'allarme quando sei vicino lontano nella propria casa e la possibilità di inserire parzialmente l'allarme ed essendo sicuri quando si è in casa facilissimo da installare e integrato con amazon alexa e le luci di philips per un maggiore controllo della tua abitazione